E' un tunisino quarantenne conosciuto nel mondo della droga, attualmente si trova in carcere ed è indagato per la morte di Gastone Pagne, il 55enne a retino, gravemente ferito dopo una brutale aggressione all'interno della propria abitazione nel luglio 2015 in via del Saracino e morto dopo 40 giorni di agonia. L'accusa per il magrebino è di omicidio preterintenzionale, secondo la ricostruzione degli inquirenti dunque il tunisino non avrebbe voluto uccidere Gastone ma solamente provocare lesioni poi degenerate nel tragico epilogo. La morte di Gastone, come appurato dall'autopsia, fu però diretta a conseguenza delle percosse subite. Ovviamente le responsabilità del quarantenne sono ancora tutte da dimostrare. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile, coordinate dal PM Angela Masiello, a portare sulle tracce del magrebino un testimone chiave che avrebbe raccontato un dissidio tra l'uomo e Gastone a causa di una partita di droga. Fondamentale resta il test del DNA. Verrà infatti confrontato il patrimonio genetico del tunisino con le tracce trovate all'interno della casa della vittima, nello specifico in un bicchiere e in alcuni mozziconi di sigaretta. Lo scorso 13 febbraio inoltre il PM avrebbe dato l'incarico per la comparazione del DNA di una macchia di sangue rinvenuta nell'appartamento di Via del Saracino con il materiale biologico prelevato dalla squadra mobile. Gastone venne ritrovato all'interno della propria abitazione nel cuore del centro storico di Arezzo il 9 luglio 2015. Fu portato d'urgenza al San Donato, morì 40 giorni dopo il pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 agosto a seguito di una crisi respiratoria.